E' stata emanata dal Ministero della Salute la circolare di aggiornamento del parere del Comitato Tecnico Scientifico sui vaccini. La circolare, firmata dal Direttore della Prevenzione del Ministero Gianni Rezza, indica che il vaccino AstraZeneca viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Per persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anglosvedese e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA, quindi Pfizer o Moderna, da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose. In questo contesto epidemiologico mutato, il CTS, l'AIFA e le altre istituzioni sanitarie del Paese hanno ritenuto opportuno rivalutare le indicazioni all'uso del vaccino AstraZeneca perché il rapporto tra benefici e potenziali rischi legati a trombosi rare cambia in funzione dell'età. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa a cui ha partecipato il Ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario Francesco Figliolo e il portavoce del CTS Silvio Brusaferro, ha aggiunto che, pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti, la raccomandazione è per la vaccinazione eterologa. Il 45% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e quasi uno su quattro ha ricevuto l'intero ciclo di vaccinazioni e questo ha consentito di registrare tutta una serie di miglioramenti dei parametri. Occupati 600 posti di terapie intensive, mentre ad aprile eravamo ad un numero sei volte superiori. La decisione di somministrare AstraZeneca solo agli over 60 avrà qualche impatto sul piano vaccinale, ma il commissario Figliolo è sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare questo impatto. In questa fase continueremo ad utilizzare il vaccino AstraZeneca secondo le indicazioni e raccomandazioni del CTS tradotte nella circolare. La valutazione degli scienziati sarà poi gradualmente aggiornata. Dal ministro arriva comunque l'invito a non abbassare la guardia. Finché non avremo zero decessi avremo una sfida tutta da giocare.